Ciao ragazze, ciao ragazze eccoci in un nuovo video, yeah! Con la stupenda Carita Dolce Raffaella Carranza Ciao a oggi sono i tuoi buoni Ciao a oggi, vai! Sera è una paretta, sera è data metropolisale Vettiti con me, non sarò figlio di buonfettora Non credere alle cose che ti dicono di me Sono tutti potenioni, chissà perché Divulgare la loro Io non ti prometto storia di copiore di cannello Vado da la tenda, vado da la tenda, vado da la tenda Sì, vado da la tenda, vado da la tenda Io penso positivo, positivo, yeah! vabbè ragazzi ciao a tutti siamo qua per un nuovo video tiger acquisti se avete visto abbiamo già fatto un video sul canale di carità dolce sempre di acquisti tiger inutili invece i miei sono più utili ditecelo nei commenti quali sono più belli se i miei sono i miei sono i miei andate a vedere il mio video che avevo caricato è una gara è una challenge poi oggi abbiamo caricato un altro video anche sul mio canale dove io vi ho mostrato degli acquisti secondo me sono più belli diteci voi se sono più belli questi o i suoi i miei sono utili sei un ospite quindi devi dire sono più belli i miei ok fai vedere la Nancy ha comprato questa cosa utile che lo so cosa sia cosa sono? sono dei tartuffini di cioccolato comunque ragazzi noi faremo un video di assaggi tiger sia sul mio canale e sul canale di carità dolce perché abbiamo comprato un sacco di snack schifosi strani buoni no vabbè tanto fia cacao ricoperti a cacao a cacao ricoperti a cacao a cacao ricoperti a cacao certo a me piace il cacao e il cioccolato ma proviamoli dobbiamo fare i video di assaggi lo vedrete questi giorni in un altro video come io tutti i snack non resisto le voglio mangiare spia no no non lo so bene poi la Nancy mi ha comprato questo che mi ha fatto troppo troppo felice è una custina le ho comprate due una e una tetta già la custina è troppo carina che è più plastica si può mettere dentro il trucco le cose per portarti dietro la mutandina sport traversetto ma era una mutandina sport ma era una mutandina sport è vero il costume le cose bagnate perché è impermeabile si e ci sono tutti questi qua che sono dei contenitori di creme che si possono riempire ma dopo ragazzi li posso solamente fare qualche nuova ricettina per mettere dentro allora si riempiono guarda così poi non lo so non come si riempiono ci sono in un buto qualcosa per riempirli però se non si riempiono se è qualcosa di fluido sempre poi se ne può portare dietro ragazzi potete anche usare si per riempirlo qua deve essere qualcosa di giù potete anche usarli vabbè io l'ho pensato per quando si va in viaggio e puoi mettere la crema ma l'ho pensato tipo sull'aereo invece di portarti i bottiglioni grande ti porti questo qua metti shampoo bagno schiuma la chiama copp e la chiama vincio per esempio e così è proprio il set d'aria ma no questa è mia e quella è tua grazie 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 iiii felici per te i barattolini a me li ho troppo felici a me li lasciano tanto questa è una vostra bello aspetta abbiamo preso un'altra cosa e a me a te grazie uno è così grande e uno è piccolino questo piccolo è il tuo perchè è rosa no ma a me piace il piccolo e praticamente ci potete mettere dentro gli snack c'è scritto comporta snack non va nel nel microonde no però va nel congelatore e anche nella vassovia che cacchio io ne frega vabbè comunque praticamente dentro con gli scavolini lui diceva gli snack ad esempio per noi che tipo la nostra alimentazione così allora magari immagino molta frutta secca ci mettete le mandorle le luci 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 si può mettere anche la frutta rara la frutta si 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 può mettere anche dei biscottini biscotti al cioccolato si buccellote vabbè comunque si sono molto molto carini vabbè insomma è molto carino infirati con elina al snack che bello si può mettere anche le pillole vabbè non le vogliamo no per fortuna le pillole per i pazzi ma è vero non si ma questo io non giuro tanto ma è il favore di me non toccare i miei snack favoriti ecco non toccare la cioccolata poi ho preso questi famosissimi dischetti di cotone di tiger immancabili costano poco e sono buoni sono buonissimi ragazzi piacciono tanto poi ti ho preso una cosa a te ho pregato grazie questi guarda qua sono carini sono dei sottopiatti per mettere tu le tue ricettine rosa sono dei video sono di carta sono un po' carini ma come centrotavola come centrotavola si si belli bellissimi ma anche come tua paglietta che è per berci come sotto bicchiere per fare foto tumblr poi fai colazione ma colazione piccola perché sennò ci va si fai lo scappuccino con succo di frutta ma che belli grazie troppo carini c'erano anche in altri colori ma rosa sono rosa grazie ho preso anche questi un altro set da viaggio un altro set da viaggio questo è spray per mettere i piedini dai tu con il deodorante certo grazie ce ne sono di cari colori allora a me questi piacciono tantissimo per mettermi tipo il deodorante che sono molto grande ma anche il profumo ad esempio per non portarmi il profumo troppo grande è un'acqua profumata però anche lo struccante per gli occhi anche lo struccante per gli occhi anche lo struccante per gli occhi anche il tonico viso anche tante cose si possono mettere sempre per i piatti eh si molto molto carino brava niente ho preso questa la famosa spazzola quella che c'hai tu ti ho capito questa è la azzola che ve in borsa diventa la azzola e c'è lo specchio verde Tiffany ma no è bellissima verde rosa era finita però c'era anche rosa ma era finita ma bella comunque è verde è carinissimo comunque ragazzi se spazzola io so che tutti voi l'avete comprata perchè è troppo più comoda e costano poco e costano poco aspetta ah così che la compiamo anche no no sentina e poi è comoda sta cosa che tu te la porti dietro devo anche specchiare bella figliissima poi ho preso a te questi ma che belli noi che ci sappiamo queste castane di tiger poi andiamo da tiger io ti compro le cosette tu a mio si che belli questi sono ah no perchè mi hai comprato questi per fare i massimi per fare i massimi per fare i massimi questi qua sono di carta tutti i colori sono ottimi per fare i massimi nel forno sono buonissimi tortine al cioccolato Hilti Like se volete il video ve li faccio e Nancy già so che li vorrà si li devo provare per giudicare li facciamo dai viva ma siccome quelli venti sono più piccoli si sono varie misure ma ragazzi ci sono grandi piccoli venti e poi per finire ho preso anche io un cosmetico perchè li ci sono tutti i cosmetici senza paraffina siliconi e via dicendo questo è praticamente un sapone per le mani alla rosa che bello che bello posso trovarlo? il mio era era anche te si era no che bello io l'ho preso solo per il profumo ma quanto strunza mi dovete credere quando andiamo dai che erano un bellissimo queste cose è mia bello 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 questo si può usare pure per lavare il viso mi profumo tutto il viso di rosa sicuro è tutto bello fa vedere se l'inci ma vedi se l'inci va bene perchè l'ho controllato non so si va bene ti prego oggi però vado a comprare anche io quante la comprate ragazze io allora ragazze è una figata assurda odora uguale pari uguale all'acqua delle rose roberts si ricordate l'acqua delle rose roberts che ha un po' di rosa naturale quindi dovete credere ragazze io lo vado a comprare ciao questo va bene pure come bagnoschiuma vero? ahahah comunque senti questa fragranza io lo trovo anche bagnoschiuma eh prendilo ma ti giuro è troppo bello perchè io ho trovato solo i germani però c'era anche il corpo eh è troppo bello e questo è tutto allegria è solo mio e speriamo che questo video vi sia lasciato lasciate un like per la mia sorellina grazie se vi abbiamo tenuto compagnia se vi abbiamo fatto trovare una risata se non l'avete visto di carità dolce andatelo a vedere grazie e vi ringraziamo un sacco per il vostro affetto lasciateci nei commenti voi se avete comprato queste cose se ne comprate altre cosa comprate voi da Tiger soprattutto ragazze state solitati con lui e diteci che anche voi comprate queste cose stupide da Tiger che parte vi è saffato in queste carità perchè questo Tiger ogni settimana cambia le cose cambia le cose e noi ogni settimana andiamo e spendiamo i soldi ma basta basta fermateci ma sono tutte cose che poi io di la vita usiamo sempre usiamo si però potremmo anche farne a meno diciamo ok tipo della spazzolina facciamo il fioretto e non andiamo più da Tiger per una settimana per una settimana ma che ci ha detto ma che ca**o ma mi andiamo guardando ma quanto tanto avete visto la busta cucinosa di Pasqua di Nelty ma per cari ma per cari mio 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 approfittiamo per farvi gli auguri di buona Pasqua che Pasqua è ma 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 ciao 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 ciao